Sono passati vent'anni 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 dal G8 di Genova e molti dei responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commessi in quell'occasione sono rimasti impuniti e sapete perché è stato possibile identificarli? proprio perché non c'erano e ancora oggi non ci sono codici identificativi sulle divise delle forze dell'ordine oggi più che mai a vent'anni da quei tragici giorni che hanno segnato la storia del nostro paese è fondamentale che l'Italia introduca i codici identificativi sulle divise delle forze di polizia è un passo importante che in larga parte del mondo è già stato implementato un messaggio sicuramente importante è di trasparenza nei confronti dei cittadini ma anche a garanzia di quegli agenti che svolgono correttamente il loro lavoro la legge è o non è uguale per tutti? sostenete l'introduzione dei codici identificativi sulle divise firma la petizione di Amnesty International su www.amnesty.it è importante grazie a tutti